Ben tornati a tutti. Oggi è giovedì, 23 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Arriva la stella del compleanno. Arriva la stella del compleanno o meglio due, in mattinata il sole passa dallo scorpione nel vostro segno, invece inserata la luna, dopo avervi mostrato la sua faccia pigra e malmostosa col transito in pesci in quadratura, varca ai confini dell'amico Ariete, riportandovi nel vostro habitat naturale, il fuoco. Sono i sentimenti oggi a fare da padrone, amicizia e amore camminano su un filo sottile, mettendo ogni tanto un piede nel campo accanto, ma non è il caso di scomporsi. Molto vicini ai vostri figli che seguite nella loro evoluzione, interessandovi di tutto quello che dicono, pensano e fanno, voi nativi del sagittare avete il senso innato dell'educazione, che significa tirar fuori la parte migliore, senza imposizioni, stando loro accanto. Tranquillo il fronte del lavoro e delle finanze, la prospettiva di migliorare c'è, ma su questo fronte non siate impazienti, eventi favorevoli si stanno incolonnando piano piano nella giusta direzione. E un uomo in vista, decisamente autoritario e severo, particolarmente attento alla sostanza. Un uomo in divisa, un uomo che ha autorità. E un professionista, come un medico, un avvocato, un giudice, o che per motivo del suo lavoro indossa una qualunque divisa. E il marito, il fidanzato, il padre severo, l'amico intransigente. Fondamentalmente prospetta un riordinamento nella propria vita è una più severa rivalutazione dell'amore. Per le coppie è un momento discretamente difficile, saranno attraversate da un momento di monotonia a tratti e di noia in altri. Cercate di fare il possibile per trasformare il vostro rapporto rinnovandolo quanto più potete. Notizie in arrivo, o via posta, o via telefono. Un caro amico potrebbe annunciarvi una sua partenza, un parente potrebbe farvi una proposta interessante. Un'amicizia ingombrante vi darà filo da torcere, se non siete capaci di respingere ogni attacco, almeno cercate di difendervi dai pettegolezzi che fa sul vostro conto. Poche possibilità per una pratica inoltrata tempo fa, cerca di capire i vari problemi che si sono creati e mettici tutto l'impegno per trovare una soluzione diversa. E come potreste affrontare il vostro futuro se oggi non riflettete sul vostro presente seriamente? Dovete cambiare alcune cose proprio a partire da oggi. Coraggio non è difficile. Una pratica che hai avviato da tempo subirà ulteriori ritardi, a sorpresa invece ti verrà comunicato dell'esito di una richiesta. Non riuscirete a ricordare dove avete riposto dei documenti o delle cose per voi importanti. Cercatele al più presto, potrebbero essere davvero importanti. Non abbiate paura di fare pulizia tra le vostre amicizie in rete, in fondo meglio avere pochi amici, ma fidati, che tanti pettegoli e maldicenti. Marte vi farà sentire irrequieti e non vi andrà di impegnarvi, vi sentirete anche abbattuti a tratti. Se siete poco propensi al dialogo oggi questo toccherà l'apice. Evento del giorno per voi favorevolissimo è per voi l'ingresso del sole nel vostro segno alle ore 10, 32. Vi donerà per il prossimo mese vitalità e generosità, amore per la natura e voglia di provarvi nello sport. Grande giornata per voi, oggi col passaggio del sole nel vostro segno si accendono le candeline per tutti i nativi. Il momento più felice è la serata quando anche la luna, uscendo dalla quadratura che forma con Nettuno nel segno dei pesci passa nell'amico ariete, focoso e combattivo quando voi. Sarà dunque l'idealismo la firma di questo giovedì novembrino, attenti però a non covare in cuor vostro rabbia e rancore per tutto ciò che non va secondo i vostri piani. Marte in dodicesima casa fa brutti scherzi, rendendoli esplosivi al momento sbagliato. Finanze risicate, commenta Plutone, specie se avete ancora rate o debiti da saldare, in compenso con Giove e Urano in sesta casa il lavoro va benone e promette ulteriori sviluppi. Amore ed Eros. Dall'amicizia all'amore il passo è breve e ne avrete ben presto riprova. Anche per le coppie già collaudate parlarsi e amarsi sarà tutt'uno, idealismo e sincerità ai pilastri del vostro bel rapporto. Molta attenzione dedicata ai figli che crescete secondo i principi ereditati a vostro turno da una famiglia tenera e affettuosa che vi ha allevati nel nome dell'amore. In casa vostra però il vero padrone non siete voi ma Snopi o Lulu, star incontestate sempre al centro dell'attenzione. Lavoro e denaro. Il lavoro è in crescita, strano in un periodo di stagnazione come questo, tuttavia le vostre capacità brillano e anche il fatto che non siate competitivi in certe attività torna a vostro favore. Sereni rapporti con i colleghi improntati alla fiducia e al rispetto reciproco, siete animali sociali perciò dagli altri traete energia e motivazione, mentre in proprio da soli tendete ad abbiocarvi disperdendo energie preziose. Bella serata al cinema, in palestra o a spasso con l'amato bene. Se la storia è alle prime armi saprete ben voi cosa fare. Benessere. L'energia non è eccessiva, ma quella che c'è è ben tonalizzata e distribuita laddove fisico e mente ne avvertono più bisogno. Stranamente anche a tavola siete piuttosto morigerati, adottando la regola iogica della lunga masticazione. Così facendo il tempo medio necessario per sentirsi sazi, più o meno una ventina di minuti, trascorrerà con ancora una bella porzione residua nel piatto. In pratica vi siete pappati l'energia scartando le scorie. Il segreto della vostra salute ottimismo è serenità, pensando sempre positivo tutto comincia ad andarvi davvero diritto. Per lei, amate vostra madre e fate tutto il possibile per darle una mano, ma riconoscete lucidamente gli errori che ha compiuto con voi e che vi riproponete di non compiere coi vostri figli. Con loro sarete molto più allegre, propositive, disponibili all'ascolto e soprattutto lascerete il loro guinzaglio molto più lungo di quando a suo tempo i vostri abbiano fatto con voi. Per lui, un colpo alla botte e uno al cerchio, nel vostro caso uno al fisico e uno alla mente. È così che invecchierete bene ogni volta che alla torta aggiungete una candelina questo aggettivo che non piace a nessuno vi torna in mente con disappunto. Consolatevi, invecchiare rende saggi. Colore delle emozioni, arancione. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 7, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.